La fiera del tartufo di Acqualagna per il vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, Francesco Battistoni, è stata anche l'occasione per fare un sopralluogo alla riserva naturale statale Gola del Furlo. Insieme a lui l'assessore regionale all'ambiente Stefano Guzzi, che sta seguendo alcune tematiche riguardanti il corso dell'alto fiume Metauro, due le richieste avanzate, quella della pulizia della diga del Furlo e la riperimetrazione dei confini della riserva. Alcuni confini non seguirebbero la naturalità di questa riserva, ma piuttosto seguono i confini di strade che non sono adatti anche per lo stesso controllo che serve per i confini della riserva stessa. Su questo c'è già una proposta da parte della gestione della riserva e dei comuni che ne fanno parte e l'On. Battistoni si è detto disponibile a seguirla a livello ministeriale. La seconda cosa, che secondo me è ancora più importante, è quella invece dell'escavo del bacino della diga del Furlo, che come molti altri bacini della nostra regione è intasato, in questo caso per circa il 40%, da detriti che ci sono negli anni depositati, mentre invece questa diga può essere una riserva d'acqua ancora più consistente qualora ci sia una ripulitura del suo alveo. Su questo, ha proseguito Aguzzi, la regione Marche si è mossa da tempo e siamo in una fase autorizzativa avanzata, manca ora quella del Ministero dell'Ambiente. Nel giro delle prossimissime settimane, appena gli atti saranno predisposti da parte e della regione Marche, della provincia di Pesos Urbino e della riserva del Furlo, saranno tutte inviate a livello ministeriale attraverso la Commissione dell'Ambiente, attraverso il suo vicepresidente, l'On. Battistoni, che ringrazio. Ho avuto modo, ha poi dichiarato l'On. di approfondire la funzionalità e le bellezze di questa riserva che, seppur piccola, offre grandi ricchezze ambientali e faunistiche. Poi naturalmente abbiamo avuto modo di parlare sia con il presidente riserva che con alcuni amministratori del territorio su due problematiche, in particolar modo che stanno interessando il territorio, che è quello dello sfangamento della ditta del Furlo e quella di un'eventuale ripetere di metrazione della riserva adeguandola ai confini naturali, mantenendo comunque la stessa superficie anche forse leggermente ampliandola. Queste sono state le due tematiche all'ordine del giorno, me ne sono fatto carico insieme all'assessore e nei prossimi giorni e nei prossimi mesi vedremo anche gli sviluppi e considerando anche l'aspetto che per alcune autorizzazioni riguarda sicuramente i ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente.